buona giornata amici da massimo foghetti iniziamo le trasmissioni del mattino di fano tv con la rassegna stampa oggi sabato 22 ottobre 2022 iniziamo subito con l'almanacco per vedere il santo del giorno e vediamo che un santo particolarmente noto e particolarmente apprezzato papa giovanni paolo secondo papa voettiva colui che la gente ha voluto santo subito tanto palese si dimostrò il l'impegno l'operato compiuto durante il suo lungo e travagliato pontificato papa voettila morì nel 2005 dopo una lunga e debilitante malattia fu un papa missionario che portò il vangelo un po in tutto il mondo subì il grave attentato lo ricordiamo tutti in piazza san pietro ma la sua devozione alla madonna di fatima lo salvò e questa sua devozione caratterizzò il suo operato il suo impegno per tutta la vita vediamo anche le previsioni del tempo vediamo che il sole si alzerà tra poco alle 7 31 e tramonterà alle 18 e 13 il tempo oggi si mantiene in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata i venti saranno al mattino e al pomeriggio forti e proveranno da sud sud ovest il mare è mosso le temperature uscideranno dai 19 ai 25 gradi si mantengono dunque le temperature miti speriamo che si mantengono a lungo per evitare il salasso delle bollette per il riscaldamento vediamo anche una immagine del nostro territorio questa mattina la regia ecco apre la sua visuale sul Pincio di Fano ancora vediamo che il cielo è piuttosto così brumoso non abbiamo ancora il sole che poi illuminerà questa bella zona della città di Fano e l'ingresso monumentale alla città in questo momento la webcam inquadra la zona verso Porta Maggiore comunque la zona è caratterizzata dal bastione del Nuti dall'arco d'Augusto veramente una bella immagine della Fano anche notturna ed ora apriamo i giornali questa mattina vediamo subito le notizie di sport per quanto riguarda il weekend vediamo che la Vispesaro si appresta a sostenere la partita con l'Alessandria dopo due sconfitte che ovviamente insomma non fanno piacere ai tifosi ed è proprio ai tifosi che si rivolge Sassarini dicendo chi ama la Visse deve dare una mano nonostante le critiche Sassarini esorta l'entusiasmo per la partita di domani con l'Alessandria per noi è una gara molto importante a maggior ragione dopo le sconfitte con il Rimini e la Lucchese e con vista su novembre infuocato ci sono veramente partite impegnative per la prossima per il prossimo mese e vediamo invece per quanto riguarda il Fano calcio mezza squadra fuori uso purtroppo ci sono molti giocatori infortunati ma il Fano ci prova con il Termoli che ospiterà in casa domani alle 15 e 30 Mosconi è alle prese con i problemi di mistura Capezzani, Drolet, Broso e Bamba oltre a Nappo squalificato sono quelli i giocatori di cui appunto l'allenatore dovrà fare a meno. Mister Mosconi proverà a recuperare qualche giocatore ma la lista degranata alle prese con problemi fisici è piuttosto lunga oltre a Padovani costretto ad operarsi ai primi di novembre l'Alma ha in non buone condizioni Mistura, Capezzani, Drolet, Broso e Bamba oltre a Nappo squalificato per una giornata. Vedete come la disponibilità per Mistura insomma è particolarmente carente. Vediamo anche qualche altra notizia sempre per il Calcio, Santorso e Montecchio alla prova del 9, promozione gli anticipi Fanesia, Fermignano, K Sport a Moie mentre tra Marotta, Mondolfo e Cagliese si prospetta una battaglia. E per quanto riguarda invece il volley vediamo che l'Apav Lucrezia cerca il riscatto durante il derby Montesi Virtus. Ebbene è la serie B2 questa della pallavolo dopo la sonora sconfitta in casa contro il Polverici per 3 a 0, l'Apav domani alle 18 e Auzano in attesa del riscatto. Queste le notizie di sport. Ora diamo un'occhiata invece alle notizie di cronaca aprendo il resto del Carlino sulla pagina di Fano. E vediamo un appello di carattere politico, anzi una richiesta di carattere politico che parte dal Movimento 5 Stelle e cerca di coinvolgere tutto il prossimo Consiglio Comunale. Si parla del pronto soccorso e pediatria, non ai privati. Il Movimento 5 Stelle è contrario all'affidamento dei servizi a soggetti esterni come le cooperative, come le società. Appello al Consiglio Comunale perché si esprima. Si tratta di un ordine del giorno che viene presentato dal gruppo consigliare dei 5 Stelle formato da Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana. E poi dietro di loro c'è anche una presa di posizione della consigliera regionale Marta Ruggeri, la quale dice che per quanto riguarda Marche Nord, al pronto soccorso i medici esterni coprirebbero i seguenti turni. 70 per i mesi di novembre e dicembre prossimi, 100 da ottobre a novembre del 2023, mentre per pediatria i turni coperti dai medici esterni sarebbero 80 per novembre e dicembre 2022 e 100 da gennaio a ottobre per il 2023. Quindi vedete come la preponderanza è affidata appunto ai medici esterni, non quelli in servizio permanente dell'azienda Marche Nord. E qua vediamo un'altra iniziativa in sofferenza per quanto riguarda il caro Vita. Bollette da 6.000 euro chiude il negozio Bio, è un negozio, un emporio diciamo, si chiama Emporio AE che è a Poderino. Ne parla Michele Altomeni che è il presidente della cooperativa di gestione e contatto che ha anche altri esercizi. Ebbene Altomeni è costretto a sacrificare questo negozio per salvare magari altre iniziative in merito all'aumento veramente elevato della bolletta della luce che è cresciuta tantissimo. Una bolletta da 6.000 euro, un aumento del 500%, un aumento che si preventivava ma non così tanto e ora la spesa diventa insostenibile. E purtroppo il Poderino ma anche tutta la città deve fare a meno di questo importante punto di riferimento che serviva molte famiglie ma anche molte aziende. E poi vediamo un'altra notizia di carattere politico sul resto del calino che riguarda la città di Fano. Vediamo che il centro-sinistra si riunisce dopo la sconfitta elettorale alle politiche dei giorni scorsi. Stavolta si parla in maniera più circoscritta della città di Fano su iniziativa di Incomune. E questo partito che dice e adesso che facciamo? Ebbene a questa riunione che si è svolta a Luce Lim Belverde hanno partecipato diversi esponenti politici. C'erano i Cinque Stelle, il gruppo consigliare dei Cinque Stelle, c'era Mascarine, Carla Luzzi e Simone Guccioni di Incomune. Poi anche come uditori c'era Marta Ruggeri dei Cinque Stelle e Renato Claudio Minardi del Partito Democratico. Presenti, informa il giornale, anche il dirigente comunale Pietro Celani e l'assessore al welfare Dimitri Tinti. Non c'erano i rappresentanti di azione. E si cerca di rinserrare le file dopo appunto l'avanzata poderosa del centrodestra di cui oggi i giornali nazionali riportano poi tutta la lista dei ministri formata dalla nuova incaricata di formare il governo Meloni. E quindi si cerca un po' di rinserrare le file, come dicevo, a livello locale. E poi il giornale riporta un dramma. Riporta una tragedia. Un giovane padre muore travolto da un treno merci. Aveva 41 anni ed era di Marotta. Rivenuto un biglietto nel suo portafoglio in cui annuncia il suo tragico proposito. Le indagini cercano appunto di stabilire un po' tutte le circostanze che ruotano attorno a questa tragedia. Si tratta, dicevo, di un... Il fatto è avvenuto a Marotta. Si tratta di un 41enne del luogo, Francesco P. Sposato con figli ancora piccoli. La morte è stata immediata. Insomma, è stato... Il suo corpo poi è stato trascinato per una lunga distanza, ma è inutile entrare nei particolari. Giudice del lavoro ha annullato tutto. I legali del professore Cinelli puntualizzano sulle sanzioni disciplinari. In merito all'articolo pubblicato dal resto del Carlino, qui c'è una specie di rettifica che dà voce a quello che asseriscono i difensori del professore Enrico Cinelli, il quale deve rispondere di fronte al giudice di maltrattamenti nei confronti degli allunni. È tutto errato, dicono gli avvocati, che il giudice abbia confermato le accuse mosse al professore dall'amministrazione scolastica. Il tribunale, al contrario, ha annullato tutte le sanzioni disciplinari ricevute dal docente per complessivi 18 giorni. Ebbene, un contrasto, poi sarà il giudice ovviamente a decidere e valutare come stanno veramente le cose. A Fraterosa dicono no per quanto riguarda il biodigestore. È un nuovo no che si esprime per la localizzazione di questo impianto. Anche qui c'è un ricorso al TAR, anche da parte dell'amministrazione comunale che è vicina a quella di Barchi, dove ugualmente è sorto un comitato per il no. I tecnici parlano di 60 camion al giorno e di pericolo per il trasporto del metano. C'è stata una riunione che si è organizzata nella Sala Vittoria, una Sala Vittoria che poi è risultata piena giovedì sera nel paese delle Terrecotte per l'incontro dal titolo informati e tutelati, no al biodigestore di terre roveresche. L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato Cittadino a difesa del territorio ed erano presenti in veste di relatori, sia il sindaco di casa Alessandro Valtroni e Mauro Biagioli, membro del direttivo del Comitato Cittadino. Il 10 novembre prossimo il Comitato terrà un nuovo incontro alla palestra di San Michele al fiume, quindi si amplia l'orizzonte di sensibilizzazione per questa iniziativa che vuole scongiurare l'insediamento del biodigestore nel territorio circostante a Barchi. E qua abbiamo poi un'altra situazione critica per il caro Bollette. Il barista contro Era, contratto a tariffa fissa ma Bolletta raddoppiata. A San Lorenzo in campo, Marco Giglia, che è titolare di due locali, dice pagavo 1000 euro al mese, ora ne chiedono 2400. Il gestore per la corrente elettrica ha cambiato unilateralmente il tipo di contratto e purtroppo non è una situazione unica questa, ce ne sono tante altre, ma non è una scusa. Da lunedì a Urbino si accenderanno gli autovelox. Leggiamo molto attentamente questo articolo per non incorrere in pesanti multe. Saranno quattro i box che entreranno in funzione da lunedì 24 ottobre. Saranno posizionati in punti potenzialmente pericolosi, su cui già in passato si sono verificati degli incidenti. Il primo sarà installato nella curva all'uscita della Galleria, sulla destra, a scendere verso Ferminiano. Avrà come limite i 90 km orari. Gli altri invece si troveranno all'uscita da Mazzaferro in direzione Tufo, al Tufo stesso e a Montesofio, con un limite impostato a 50 km orari. Tutti rileveranno la velocità di chi transiterà su entrambe le direzioni. Ma mentre quello della Bretella, dove c'è più traffico, sarà fisso e sempre attivo, quelli verso le Capute saranno in funzione alternativamente, in quanto il macchinario è uno solo e sarà ruotato tra le postazioni. Quindi, attenzione, osserviamo questi limiti di velocità, evitiamo appunto di provocare incidenti in punti molto pericolosi, già molto critici in passato, e quindi evitiamo anche le pesanti multe che poi arrivano grazie all'autovelox. Ed è un'iniziativa culturale, stemperiamo un po' il dramma di questa, la preoccupazione di questo articolo, ed è un'iniziativa culturale molto molto bella quella che è organizzata ad Urbino, che espone le carte di Federico. Sono carte di carattere istituzionale, ma anche carte di carattere privato, che rivelano la grande e molteplice personalità del Duca Federico, questo grande uomo d'arme, ma anche uomo di cultura, un uomo veramente illuminato. Da mercoledì si aprirà la mostra con documenti rarissimi, scopriremo meglio il condottiero e l'uomo, appunto. E poi ancora, finiti i lavori di recupero al cimitero monumentale di Urbino, sono state sistemate circa 400 tombe, costruite tra gli anni 40 e 50, che erano in una situazione di particolare degrado. Il sindaco Gambini dice alcune parti erano in condizioni davvero drammatiche. È un lavoro collettivo quello che è stato compiuto nel cimitero presso la chiesa di Sant'Ubaldo. Lino Meccelli, con Urbino Servizi, è l'architetto Gianluca Agostoli dietro le operazioni di recupero e di tutela. E vediamo ancora un articolo che comprende quasi interamente tutta la pagina degli spettacoli del resto del Carlino. Si parla di Fano, con Vitruvius, la civiltà del pensare. Il centro studi fanese lancia una nuova rivista culturale, un approccio multidisciplinare, autori di chiara fama. È il primo numero di una rivista che poi sarà edita in forma periodica, credo una volta l'anno, ma con studi profondamente di un contenuto profondo dal punto di vista culturale. Vitruvius, qui vediamo il presidente del centro studi, Dino Zacchilli, con il direttore Oscar May, l'archeologo dell'Università di Urbino. Questa è l'ultima nata in casa del centro studi, si chiama Vitruvius, ed è la rivista annuale che vuole essere la vetrina della ricerca multidisciplinare su Vitruvio e il suo trattato. Vitruvio dal punto di vista dell'architettura antica, come uomo del suo tempo, ma anche Vitruvio come uomo contemporaneo, perché la sua opera ha ispirato tanti architetti dal Rinascimento in poi fino al giorno d'oggi. L'America è un esempio di architettura vitruviana con tutti i riferimenti all'arte classica, ma anche in Italia se ne trovano tanti e anche in Europa. Ed ora diamo un'occhiata invece alla pagina pesarese del resto del Carlino. Vediamo come si inizia con una notizia di cronaca costretto a fare sesso dai bulli e poi il video sul web, due indagati. Si tratta di un diciassettenne che denuncia due suoi coetani per avergli fatto subire delle umiliazioni, delle aggressioni e minacce. Ora i due sono accusati di abusi e revenge porn, perquisite le loro case nell'entroterra di Urbino. La presunta vittima si sarebbe confidata con un insegnante. L'avvocato difensore di un sospettato dice attendo di parlarci. Insomma, occorre fare luce su quanto denunciato. Comunque li hanno perquisiti e messi sotto inchiesta per violenza sessuale e revenge porn, questo nuovo reato che viene previsto dal codice, ossia una vendetta pornografica. Avrebbero prima obbligato un coetaneo di 16 o 17 anni, questa è l'età giovanile, diciamo così, sopra l'età adolescenziale, a pratiche sessuali sotto una minaccia di botte e ritossioni. E poi hanno filmato quei momenti rilanciandoci in rete, presumibilmente, c'è sempre qui queste espressioni un po' ipotetiche, su TikTok. È una vicenda comunque su cui bisogna far luce e purtroppo queste cose ancora accadono. Ed ora il giornale parla ancora della situazione del parco e del salvataggio delle querce. Ambientaliste che battaglia per le querce e il comune? Già lunedì pronta la soluzione. Sembra che si stemperi la protesta per la salvaguardia di questi alberi. Ieri c'è stato il colorito e colorato raduno a Muraglia, in via Carloni, a difesa degli alberi messi a rischio dai lavori degli interquartieri. Il problema, lo sappiamo, ormai è legato all'installazione dei pannelli fonoassorbenti. Amadori i tecnici stanno studiando un compromesso e qui vediamo un momento della protesta. E qua invece abbiamo le code per il traffico. Code in via Fratti per i lavori alla bretella. Deserto in via Guerrini, i negozi in difficoltà. Positivi i commercianti di via Flaminia, poteva andare peggio, dicono, mentre gli incollonnamenti durano poco e sono soltanto nelle ore di punta. Quindi non si è verificata questa difficoltà che si temeva per quanto riguarda il traffico cittadino. È una prova di nervi quella a cui sono stati sottoposti gli operatori appunto di questa zona di Pesaro. La chiusura di via Carloni, indicativamente fino a febbraio per l'avanzamento delle cantiere sulla bretella di Muraglia, ha un po' complicato la vita ma per fortuna non troppo agli operatori. Insulti e bottiglia contro gli agenti ed è stato preso. Era già stato arrestato ed espulso ma era ancora qui e ieri ha creato il caos nella zona del monumento della Resistenza. Protagonista di questa scena è stato Yusuf Yanko, un gambiano di 25 anni, senza fissa dimora, già colpito da diversi decreti di espulsione che sono stati così tranquillamente disattesi. E con alle spalle anche una condanna per resistenza, minacce e oltraggio pubblico ufficiale. Ieri la nuova esibizione nei pressi del monumento alla Resistenza. Gli è costata l'arresto da parte della Polizia Locale per la seconda volta. E vediamo questa volta se i giudici lo terranno in prigione o meno. C'è Borghese. I fornelli diventano spettacolo. Lo chef è stato protagonista alla festa di Veneta Cucina. Nello showroom lungo l'Interquartieri vi svelo la mia anatra alla torba. Chi vuole dilettarsi di cucina può leggere questo articolo per poi replicare questa ricetta. Pala Dionigi da Serie A. Ora arrivano i soldi. 1.600.000 euro per la struttura in cui tornerà la Megabox Volley. In totale 5 milioni di euro statali per Vallefoglia e Lunano. Si tratta di rigenerazione urbana per i comuni di Vallefoglia e Lunano che vale complessivamente 5 milioni di euro. Un congruo investimento per realizzare nuove strutture al servizio della città. Passiamo ora al Corriere Adriatico dove l'apertura è dedicata all'Arzilla. Si parla di voci inascoltate. Le voci inascoltate sono quelle dei residenti i quali per più volte in questi ultimi anni hanno denunciato una situazione critica delle torrente chiedendo provvedimenti che non ci sono stati. Addirittura una risposta è stata quella spetta a voi residenti intervenire e pulire l'Arzilla. Insomma la situazione ha testato qualche perplessità. Beffa per i proprietari dei terreni. Parla anche ancora a nome dei presidenti Sergio Carboni. C'è un rischio di esondazione? Dobbiamo tutelarci forse da soli? E beh insomma le nostre voci inascoltate pesano sui nuovi provvedimenti delle istituzioni che devono salvaguardare almeno la situazione ambientale di questo torrente che è lungo 23 chilometri che comprende tre comuni il territorio di tre comuni ed è diviso per competenze. Un po' sono del Comune di Fano, un po' sono del Consorzio di Bonifica. Qualche volta interviene la Regione e non si sa poi se deve intervenire anche la provincia. Insomma la situazione è particolarmente complicata. Parco Urbano a fine mese partiranno i lavori all'aeroporto. Finalmente ci sono le rassicurazioni dell'assessora Brunori al Comitato Bartolagi che ha criticato l'istituzione della nuova pista per il ciclo per il ciclo amatori, quella con le curve, le buche, i dossi. Insomma che viene mal digerita nella zona dell'aeroporto. Comunque i lavori sembra che per il secondo e terzo stralcio riprendano al più presto. Vediamo anche la fotonotizia dedicata oggi dal Corriere Adriatico alla giornata conclusiva del Fano International Film Festival che inizierà alle ore 17 al Cinema Masetti dove verranno prioritati i corti vincenti. Verranno premiati anche gli autori e ci sarà anche una coda domani mattina alle 6 del mattino sempre al Masetti la proiezione di un film a sorpresa con colazione servita al posto. Insomma una bella iniziativa per chi ama alzarsi presto anche la domenica. Vediamo anche le altre notizie pubblicate dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Lo sfratto per H risponde, cancella 20 anni di esperienza, l'associazione AGFI che associa i genitori dei bambini disabili è costretta ad abbandonare un'attività di inclusione all'avanguardia, la sede di via Roncini. Entro la fine dell'anno l'associazione dovrà riconsegnare le chiavi del locale via Roncini dove è attivo uno sportello importante, uno sportello di ascolto per famiglie, insegnanti, operatori del sociale e persone con disabilità. E poi oggi si tengono gli stati generali del turismo nella sala Verdi del Teatro della Fortuna. L'obiettivo è attrezzarsi per un grande 2023, lo ha dichiarato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Interverranno diversi tecnici esperti di turismo per fare un assunto di quello che è la vocazione e anche un invito di quella che è la vocazione turistica di Fano. Interverrà ancora Giuseppe Ejarche che ha già messo il timbro sul piano strategico del comune stesso e poi interverranno anche Cristian Casa che è presidente di Visite Emilia e inoltre Alex Bianchi, coordinatore del consorzio Riccione Family Hotel. Anche Fano persegue un turismo familiare. Per quanto riguarda Senigallia invece abbiamo una notizia di cronaca. Muore soffocata in casa arrestato il marito. Gridava le ho messo le mani sulla bocca. Secondo le sue dichiarazioni la moglie che è affetta da una malattia degenerativa perdeva spesso il controllo e urlava. Per non svegliare il figlio il marito le avrebbe messo le mani sulla bocca ma avrebbe premuto tanto per cui la donna è morta. Queste almeno le tesi dell'accusato che ora dovrà rispondere del suo delitto. E questo è tutto per oggi. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento per l'undi prossimo alle ore 7. Vi auguro un buon weekend e per il momento vi auguro una buona giornata. a risentirci.